ciao se sei nuovo mi presento io sono mari e sul mio canale puoi trovare tante idee per la tua casa dalla spesa ai detersivi che utilizzo per pulire dall'home decor ai tutorial creativi e tanto altro ancora e se vuoi conoscermi meglio ci sono anche i blog dove ti parlo della mia vita ti invito quindi a controllare le mie playlist nel box informazione sotto questo video per trovare gli argomenti che possono attirare di più il tuo interesse se il mio canale ti piace ti invito ad iscriverti e se la mia compagnia ti fa piacere regalami un like che mi aiuta tanto per la crescita del mio canale ma adesso iniziamo e oggi voglio provare una ricetta che ho pensato di realizzare non l'ho mai fatta quindi non so che cosa riesco a combinare questa è un po di pastina rimasta con semplicemente con delle zucchine grattugiate bollite voglio provare a fare delle polpette di pasta impanate fritte con dentro il formaggio filante utilizzo questo qua formaggio dolce land di euro spin ho messo dentro dentro la pasta un pochettino di latte e un po di grana padano grattugiato sempre euro spin e poi ho messo da parte ho sbattuto un uovo un po di pangrattato con un po di spezie aromatizzate insomma fate voi quindi ho realizzato questi piccoli rettangolini di galbanino simil galbanino e adesso vado a impastare le mie polpette di pasta le impano e le metto a friggere nell'olio vediamo un po che cosa succede a friggere l'olio vediamo un po di pangrattato Mmmmm Grazie a tutti Grazie a tutti